Le mie sono parole personali a cui però vorrei accompagnare la testimonianza della Presidentessa dell'Associazione Italiana di Anglistica che purtroppo si scusa oggi non riesce a essere qui e ha mandato uno scritto pregandomi di leggerlo. Tra l'altro l'Associazione Italiana di Anglistica ha dato il patrocinio a questa manifestazione che vede come fondamentale tributo alla collega. Quindi da ora in avanti parla Giuseppina Cortese, professoressa di lingua e traduzione inglese alla Facoltà di Scienze Politiche di Torino, Presidente dell'Associazione Italiana di Anglistica. Gentilissima preside, autorità, colleghe e colleghi, amiche ed amici dell'AIA. AIA è l'Associazione Italiana di Anglistica. Anzitutto come linguista, come docente in una Facoltà di Scienze Politica e come Presidente dell'Associazione Italiana di Anglistica vorrei far pervenire un applauso entusiasta per il convegno che la Facoltà Cesare Alfieri ospita oggi in onore della stimatissima collega professoressa Gigliola Sacerdoti. Gli studiosi di anglistica e in particolare i linguisti hanno condiviso con Gigliola Sacerdoti oltre un trentennio di attività accademica in cui ella ha regalato puntualmente alla comunità scientifica, saggi di grande valore, scritti con eleganza e condotti con grandissimo acume. In tutti questi anni abbiamo ammirato le sue doti di studiosa precisa, profonda e al tempo stesso capace di cimentarsi con successo con temi di ricerca interdisciplinare di grande complessità. Gigliola Sacerdoti ha realizzato la sua vocazione intellettuale distinguendosi allo stesso tempo per il rigore scientifico, la forte personalità e l'altissima sensibilità. Non a caso mi riesce difficile scrivere formalmente della professoressa Gigliola Sacerdoti. Per diverse generazioni di anglisti è semplicemente Gigliola, la nostra impareggiabile Gigliola, maestra dalla grande cultura e dall'onestà intellettuale esemplare, cui tutti siamo grati per i suoi scritti, sovente rilevanti anche per l'antissimo impegno civile e per aver così concretamente mostrato il ruolo e la rilevanza dei saperi linguistici nelle facoltà di scienza politiche. Moltissimo mi rammarico di non poter partecipare in presenza, ma sono sicura che la voce di Maurizio Gotti risponerà alta e chiara nel leggere queste mie parole di saluto e anzi virilmente saprà controllare l'emozione che già mi prende nello scrivere, figuriamoci dovessi io stessa pronunciarle. Perché non posso nel procedere non ricordare le tante occasioni di lavoro in cui ho ammirato Gigliola per il modo in cui sa contemperare equilibrio, saggezza, impegno appassionato e anche le tante occasioni in cui a lavoro terminato la stessa Gigliola ha saputo essere the life of the party, regalandaci momenti indimenticabili di gioviale allegria. Chi le è stato vicino negli anni apprezza la forza del carattere temperato dalle difficoltà della vita perché la determinazione, la creatività, il talento critico plurilingue di Gigliola non sono frutto del caso, ma della sagacia con cui ha affrontato prove anche durissime, nella vita pubblica come in quella privata, senza cedimenti e senza facili vie di uscita, ma sempre confermando posizioni coerenti, chiare, coraggiose, dimostrando il valore dell'essere donna nelle scelte della vita personale e accademica e sempre, sempre riuscendo ad imprimere alle scelte, anche a quelli più sofferte, un tocco di leggerezza, di sottile senso della vittoria, quasi a voler liberare gli altri dal peso delle sue decisioni. Mai sentito da Gigliola un lamento, una dolianza? Mai. Piuttosto la parola o il silenzio pieno di comprensione di chi nel profondo infonde concretezza giorno per giorno e grandi verità e quotidianamente le condivide, perché mai ha fatto della ricerca un piccolo ortus conclusus. Cara Gigliola, tutta l'Aia ti è accanto, rinnovando pubblicamente stima e ammirazione. Lascio ad altri in questi due giorni il compito di illustrare in modo puntuale l'ampiezza e la profondità del tuo impegno critico, ma ancora una volta tengo a sottolineare la tua lezione di vera condotta democratica e di passione civile, di cui è un gran peccato che siano privati d'ora in avanti i giovani delle aule universitarie e i giovani dell'Aia. Proprio in un momento dove di simili esempi vi è un grande bisogno e dove paradossalmente sono tanto più cari. Ma la cosa ci consola. Sappiamo, carissima, quanto tu sia nemica della noia. Quanto tu sappia apprezzare la vita e la vitalità. Perciò siamo sicuri che verrà i nostri appuntamenti, che ti vedremo e ti leggeremo. E che anzi viaggerai, lavorerai e scriverai ancora più lacrimente. Soprattutto contiamo sul tuo consiglio nelle travagliate vicende universitarie, dove il genere delle riforme mette di continuo sopra ogni progettualità. E dunque, alla prossima. Ma nel frattempo, permetteci di appuntare vicino al tuo cuore un fiore, un piccolo fiore, per una grande maestra e un'amica, un omaggio non verbale, che sta al centro del nostro testo collettivo di omaggio e di emigrazione. Pina Cortese. Lascerei adesso la parola alla professoressa